fillotassi ho letto che la fillotassi e la disposizione delle foglie sui rami in modo che le foglie non si coprano l'una con l'altra e permettano a ciascuna foglia di ricevere la luce del sole e catturare la maggiore quantità di pioggia che scorre verso le radici commento e allora come si può dubitare che la stessa perfezione non ordini la vita umana